ciao a tutti allora sono mister daga anche detto paolo per gli amici di glovo e non solo oggi sono qui in conferenza perché abbiamo un problema si un problema del coronavirus ma oltre al fatto che il problema è che i glovers o e quelli che vogliono fare le consegne a domicilio ho detto io di lavorare problema è un altro che io ora ho chiuso il mcdonald e tutti i ristoranti dunque dove cazzo andate a lavorare dunque dovete stare a casa il punto il punto il punto e virgola come sto dicendo non so che cazzo dire comunque l'importante di che stiamo tutti a casa perché a casa si sta meglio dunque dopo tutti i giorni vi consiglio di aprire le finestre perché così usci fate uscire la puzzura che lasciate poi mi raccomando aprite le finestre sempre con la fatta uscire un po di sole fate entrare un po di sole luce aria gas così potete aprire gli occhi mi raccomando la situazione è questa come sto dicendo stiamo tutti a casa uno ci prendiamo il sole dal balcone se avete il balcone sono dalla finestra altri che non la villetta si possono stare in giardino e fare quello che vogliono e andate a giocare a carte a roba mazzetto e a poche a pokemon non so fate qualche cazzo che volete l'importante è che state a casa